Tra gli italiani e gli statali è un misto, fa tragedia e commedia, diciamo la verità, anche nell'immaginario collettivo. Nella scheda abbiamo sentito che ci sono 325 mila precari nella Repubblica. Ecco, questo numero mi ha... perché supera anche quelli che ci vengono dati dalla CGL. CGL, noi penso l'abbiamo preso dalla CGL, però... Che sono 100 mila precari. Il problema è perché è difficile anche avere il numero e noi abbiamo avviato un monitoraggio, perché per precari si intende di tutto. I precari sono nel settore della ricerca, sono i medici a contratto, nelle ASL, nelle regioni. I precari sono persone che hanno dei contratti a termine. Te ne presento una? Carne d'ossa? Federica? Ciao Federica. Sono ancora traumatizzata dalla scheda. Io mi auguro che il nostro ministro, perché insomma in quanto precaria della pubblica amministrazione... Dilli cosa fai, partiamo da quello. Io sono una ricercatrice dell'ISFOL, ma in realtà sono qui un po' a nome di tutti i precari della ricerca della pubblica amministrazione, per quanto riguarda gli EPR. Ci siamo coordinati in una rete che si chiama Rete Ricerca Pubblica. Che noi umani non sappiamo cosa sono gli EPR, però... Allora, gli EPR... Pardon, gli EPR sono gli enti pubblici di ricerca. Ok, perfetto. Il problema è che in questo paese... Il ministro la segue benissimo. No, 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 il problema è che in questo paese c'è molta confusione su quello che è la ricerca, perché tutti fanno un gran parlare di ricerca, di necessità di investimento in ricerca, poi però ci si dimentica anche di capire più o meno come è fatto questo mondo. È un mondo fatto più o meno in due grandi famiglie per quanto riguarda la ricerca pubblica, perché quella privata non esiste, quindi parliamo di quella pubblica. Quella pubblica è fatta dall'università, nella quale si fa ricerca di base, e dagli enti pubblici di ricerca. A loro volta gli enti pubblici di ricerca, questo sempre per i cittadini, perché il ministro lo sa, sono fatti da due grandi famiglie. Ci sono gli enti vigilati dal ministro Profumo, gli enti del MIUR, e poi ci sono tutti gli altri enti vigilati da tutti gli altri ministeri. C'è il mio istituto, l'ISFOL, che è vigilato dal ministro del lavoro, c'è l'Istituto Superiore di Sanità, vigilato dal ministro della salute, per capirci. Allora, veniamo all'ISFOL. Dentro l'ISFOL ci lavorano delle persone, degli statali, normali, a tutto il tempo indeterminato, con le garanzie, e poi dei precari. Assolutamente. Allora, nell'ISFOL, come in quasi tutti gli enti di ricerca, siamo nella media del 40%, cioè i precari della ricerca nella pubblica amministrazione degli EPR, quindi negli enti pubblici di ricerca, sono il 40% del totale degli enti. E tu qual è la domanda che vuoi fare al ministro Padrone Griff? No, vorrei dire, siamo un attimino in difficoltà, perché a maggio il ministro ha firmato un protocollo di intesa con regioni e parti sociali, il 3 di maggio, ha firmato un protocollo di intesa nel quale in qualche modo si affrontava anche un percorso, comunque si iniziava un percorso, un tavolo, nel quale si sarebbe affrontato il tema della precarietà. E c'erano tre settori che erano stati individuati come dei settori molto a rischio e molto seri in cui intervenire in termini di precarietà, che sono l'istruzione, la ricerca e l'assistenza sanitaria. Perché sono i tre settori nei quali, per servizi indiretti o diretti al cittadino, comunque la precarietà è arrivata a livelli talmente tanto importanti che siamo al collasso nell'eventarità in cui questa cosa non si affronti. Il problema qual è? Che il ministro ci ha assolutamente mollato. Il tavolo è stato praticamente chiuso, si può dire perché li hanno convocati una o due volte al massimo, immagino. I precari? E le parti sociali, il tavolo con cui si sarebbe affrontato il tema dei precari anche nella ricerca, mandandoci alla spending review come se fossimo pubblica amministrazione to cure. Io capisco che l'immagine, la più grande operazione di marketing del precedente governo che speravo fosse finita con questo governo, era questa immagine del dipendente pubblico fannullone. È su quella immagine che si è costruita l'idea... Allora, ci dice Federica, noi siamo stati definiti fannulloni come i nostri colleghi che hanno il posto fisso e in più non abbiamo il posto fisso. Che si può fare per tanti giovani ragazzi come Federica? Dunque, il problema dei precari, come ho già avuto modo di dire, è il problema vero che noi abbiamo perché è il più urgente ed è il più complicato da risolvere. Io ho detto subito che se dicessi risolviamo il problema dei precari, lo potrei dire, tanto tra quattro mesi, cinque mesi torno a fare quello che facevo e quindi può essere il problema di chi ci segue. Ma questo evidentemente non è possibile. Noi abbiamo avuto delle sacche di precarietà che si sono formate nel corso di decenni e da questo punto di vista pensare che noi lo risolviamo oggi da soli mi sembrerebbe miracolistico. Dobbiamo cercare di affrontare i vari problemi. Il tavolo è stato ripreso e ora faremo anche una direttiva, farò anche una direttiva che abbiamo già mandato a regioni e denti locali per avere un accordo quadro in sede Aran in modo da consentire, come già prevede la riforma Fornero, una disciplina diversa per alcuni settori su due punti molto importanti. La possibilità di rinnovare i contratti... Non parlatevi ad acronimi lei e Federica perché c'è tutto il resto del mondo che se non capisce. L'Aran è l'agenzia di parte pubblica, la quale ha il compito di fare con i sindacati o i veri e propri contratti o degli accordi quadro in certe materie di tipo, come si dice, ordinamentale. Allora l'idea... Cioè vengono stabilizzati? No, allora ecco, la stabilizzazione... L'Aran è quella che discute i contratti. Allora, la prima cosa da ricordare è che l'ISFOL ha già avuto nel 2008 un notevole incremento della dotazione organica proprio per stabilizzare molti dei precari. Ora evidentemente questa è una tecnica che è stata fatta per decenni e questi sono i risultati. Non si può andare più avanti. Quali sono i risultati, Ministro? Che abbiamo tanti precari e ne abbiamo di... Allora, il mio punto è questo. Allora, perché se lei viene qui a dirci oggi che non ci sono soldi per stabilizzare i precari io me lo aspetto. Il tema però, secondo me, è un tema politico più importante. Cioè la ricerca è la cosa su cui teoricamente tutti quanti diciamo che è il punto di investimento di un paese. Cioè i dati dimostrano che i privati che non investono in ricerca... Allora, se la ricerca è una voce di bilancio da tagliare, ce lo diciamo e lo diciamo anche al paese. Perché stiamo tagliando. Lei con la spending review ha permesso che ci tagliassero dotazioni organiche. Allora, io ho solo un minuto, quindi farei rispondere. Allora, sicuramente c'è un problema di spending review. È ovvio che ci sono dei settori che vanno tagliati di meno e dei settori che possono essere tagliati di più. Ma la situazione che noi abbiamo oggi richiede sicuramente dei tagli anche su settori strategici. Probabilmente in quei settori bisogna tagliare meno e bisogna riorganizzare le risorse per far produrre il più possibile. Noi abbiamo vari enti che sono stati accorpati ad altri per cercare di ridurre le spese. Infatti ci arriveremo. Lei purtroppo ci deve lasciare, ma noi arriveremo anche a questo. C'è un'idea del Ministro Profumo di cercare di aggregare gli enti di ricerca per grandi tipologie di ricerca, anche per evitare quello che diceva la dottoressa, che noi abbiamo enti che stanno vigilati a un ministero, enti da un altro, che non consentono una visione strategica della ricerca. Senta, le posso chiedere? Noi stiamo cercando di fare una cosa selezionata. Stiamo anche cercando di risolvere il problema concreto. Stiamo vedendo per esempio per i precari scadenza del 2012 con questo accordo quadro di cercare di prorogare questi termini. Stiamo anche cercando di pensare a dei concorsi speciali in cui venga fatto valere il titolo dell'esperienza. Pensare che però noi possiamo risolvere un problema decennale sarebbe no, ma sarebbe poco serio anche per dirlo a raccontare. Mi dica una cosa, anche tenendo conto che come ha detto prima, forse fra sei mesi tornerà a fare il suo mestiere. Quindi mi dia una risposta proprio sincera. 3 milioni e mezzo sono gli statali. 3,2. Cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi anni? Ci saranno molti di meno? Quanti di questi signori non ce li possiamo più permettere in questo nuovo mondo della spending review? Allora, sono 3,2 milioni, 3 milioni e 3. Per statale intendo tutte le pubbliche amministrazioni, anche locali. Con questa ridefinizione delle dotazioni organiche previste dalla spending, noi avremo un taglio del 20% dei dirigenti che sono cresciuti a dismisura e del 10% dell'altro personale. Il che non significa che verranno licenziati il 20% dei dirigenti e il 10% del personale. Pre-pensionate? Facciamo gli esodati del pubblico? No, gli esodati non li facciamo nel pubblico perché non c'è proprio la materia per poter fare. Abbiamo una piccola dose cosiddetta di pre-pensionamenti, cioè le persone più anziane vanno per due anni soltanto in pensione con i requisiti pre-fornero e avremo poi della mobilità, cioè una riallocazione del personale con delle compensazioni tra le piante organiche. Questa è una vecchia storia, ci stanno gli statali a muoversi, questa è una vecchia storia. Nel momento in cui scattano degli esuberi non riassorbibili dalla singola amministrazione, si dovranno muovere perché è meglio fare mobilità che perdere un posto di lavoro. Questo credo sia dispensabile. Però noi alla fine avremo un risultato importante, avremo la dotazione organica ottimale delle nostre amministrazioni e da allora potremo cominciare a riprogrammare le assunzioni nel pubblico. Cosa che invece oggi si fa... Allora più o meno a che anno la fissiamo? Tra un paio d'anni. Si potrà riprogrammare assunzioni nel pubblico... Dovunque lei sarà fra due anni, anche se non sarà più al governo. Lei mi viene a pescare. Federica mi ha detto che lei ha una risposta abbastanza... Tutta questa soppressione di enti ci porterà alla fine a risparmiare dei soldi nostri? Ma la Corte dei Conti dice no. Gennaio 2012, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato. La Corte dei Conti dice che tutte le soppressioni e gli accorpamenti in questo caso ne sono analizzate due o tre fra cui l'ente italiano del teatro ma anche altri enti che dovevano essere accorpati. Altre amministrazioni dice che ci sono stati aggravi di spesa che le fasi di transizione sono troppo lunghe che per quanto riguarda le risorse umane passare da un ente all'altro spesso è un problema perché le competenze sono completamente diverse e vanno riformati ma soprattutto che nel caso di grandi patrimoni immobiliari c'è il blocco, lo stallo al punto tale che determinati patrimoni vengono abbandonati. Allora, è il paradosso italiano. Perciutoli spendiamo di più spendiamo per tenerli aperti. Io mi auguro che Crosetto e Trefiletti non moleranno nessuna di queste questioni noi non lo faremo e vi aspettiamo domattina alla stessa ora.